Si è chiuso in 2016 Arturo Cerulli, sindaco di Monte Argentario, con tante belle cose. Le prime mini crociere che arrivano, poi la riapertura di Villa Varoli, poi l'inizio del lavoro della spiaggetta a Piazza dei Rioni e poi la riconsegna della Feniglia. Quale cosa ti ha più soddisfatto? Intanto la firma del protocollo di intesa con l'aeronautica per la ripresa in carico di tutti i terreni di cui c'è stato quasi cent'anni di discussione di chi appartenessero e questo dovrebbe dare un bel polmone a Porto Santo Stito. Poi anche una bella cosa è stata forse l'idea di fare a Porto Ercole questo centro studi, chiamiamolo così, dedicato a Caravaggio e il progetto dovrebbe partire quest'anno, quindi anche quello dovrebbe essere un grosso punto di rilancio per un turismo non necessariamente soltanto estivo, perché il problema dell'Argentario è che, diciamo solo chiaramente, vive grazie a due mesi, due, tre mesi, la stagione che invece di allurgarsi purtroppo si stringe sempre di più, insomma sappiamo tutti che c'è questa crisi, che la gente poi non è che proprio spenda più volentieri come una volta e soprattutto non ha più quei blocchetti da 100.000 lire che avevano negli anni d'oro senza sapere da dove si prendevano, tanto per essere chiaro, però la gente veniva qui e quando pagava pagava con fogli di carta. Oggi questo modo di fare direi giustamente è finito, quindi insomma bisogna correre ai ripari. E noi lo stiamo facendo cercando di abbellire il più possibile il paese, di renderlo pulito, di renderlo accogliente. Mi hanno conto che abbiamo dimenticato un po' di cose fatte nel 2016, ma quella che ti è rimasta un po' nel gozzo che avresti voluto fare non si è riuscito a fare? Ma no, non lo so, tutto quello che non abbiamo fatto, insomma francamente direi forse ancora non riusciamo a sfondarla sulla raccolta differenziata per esempio, qui c'è veramente un, così, a parte la difficoltà del gestore, insomma tutti sappiamo in questi giorni i problemi che riguardano l'ATO, Siena, 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 e appunto, insomma è inutile starlo a ripetere. E poi quindi alla fine c'è anche però da parte della popolazione stessa una non accettazione di queste, chiamiamole novità, anche se poi novità non sarebbe, visto che nel mondo sono decine e decine di anni. A livello di informazione come vi siete mossi in questo senso? Ci siamo mossi, ma io dico che però finché non riusciamo a fare la raccolta differenziata è stessa tutto il territorio comunale e la gente che si trova costretta a farla la prende come una costruzione e non capisce il perché io la fò, lui non la fa, quella mia sorella la fa, lui no. E questo è quello che secondo me ci mette non in condizione di essere, di usare la mano pesante. Io sarei disposto anche a farla molto a chi non la fa e che dovrebbe farla. Però poi alla fine c'è sempre il problema che per esempio io personalmente sono in una zona dove non c'è raccolta differenziata a porta a porta. Quindi non è facile poi dire agli altri quello che dovrebbero fare se poi te stesso non sei tenuto a farla. E questo mi danno. Io vorrei che il Sai Toscana facesse quello che noi siamo disposti a fare e a pagare. Quindi non è che non vogliamo farla gratuito, vogliamo pagare per fare questa cosa e stendere a tutto il paese questo servizio. Dopodiché siamo sicuri che riusciremo a convincere tutti a farla. Ecco, 2017 in pratica è l'ultimo anno di vera amministrazione di Arturo Cerulli perché poi 2018 le elezioni, insomma. Qual è la cosa che ti preme di più? Ma intanto voglio essere chiaro, non è che per me 2017 sarà l'anno dove si tirano i remi in barca perché tanto poi io non sarò più candidato, non sarò più candidabile. Quindi uno potrebbe dire ma sa che c'è. Ormai sono arrivato, quello che ho fatto ho fatto, sono soddisfatto di quello che ho fatto e l'ultimo anno me lo codo con tranquillità. Io continuo tutte le mattine ad andare nei cantieri, ne abbiamo aperti 15 in questo momento. Qualcuno dice che soltanto all'epoca della ricostruzione Porto Santo Stefano fu bombardato in maniera, abbiamo preso anche una medaglia al valore per questo. Quindi l'Argentario fu fortemente nel post bellico, in quel periodo c'erano tanti cantieri. Qualcuno dice che c'è tanti cantieri come allora. Ecco, quindi siamo in forte attività. Ecco, questo 2017 vorrei continuare a mantenere questo livello di lavori perché nessuno possa dire che si lavora perché c'è le elezioni. Anzi no, l'idea mia è che verso le elezioni noi veramente cercheremo di non fare troppi lavori. I lavori che stiamo facendo adesso, speriamo che il 2017 serva a chiudere questi lavori che stiamo facendo. Ripeto, abbiamo 15 cantieri aperti sia a Santo Stefano che a Porto Ercole. Quindi c'è tantissima carne al fuoco. Ecco, la tua firma si può dire sarà la spiaggetta nel piazzale dei Rioni? Ma no, qualcuno dice che ho da ultimo voluto dare questo grosso ricordo perché poi... Ma io francamente vorrei essere ricordato anche per tante altre cose. Ripeto, la firma sull'aeronautica per esempio, oppure il nuovo molo a Porto Ercole che abbiamo fatto diversi anni fa, il lungomare di Porto Ercole. Chi si ricorda come era prima era veramente una cosa indecente. Oggi è una cosa bella, le palme sul lungomare, le demolizioni che abbiamo fatto. Importante questo perché insomma riuscire a demolire in una zona come la Feniglia 66 casette. Insomma, io non so chi ne avrebbe avuto il coraggio. Ma potremmo essere ricordati per esempio per tutta la battaglia che abbiamo fatto sulle concessioni demaniali, nei suoi pontili. Insomma, cose che ci hanno visto così combattere a livello legale e diciamo vincere. Almeno al primo momento, fermo restando l'incertezza dell'Italia nel definire certe problematiche. Però insomma, mi sembra che ci abbiamo lavorato tutto. Oppure fare un po' più belle le spiagge. Penso alla Marinella, penso a tante cose. Quindi io direi che non c'è, non è la spiaggia il fiore all'occhiello. Io mi piacerebbe essere ricordato per le opere che abbiamo fatto, specialmente se confrontato e se rapportato al periodo. Insomma, noi questo è un periodo... Mica facile. Io ho avuto dieci anni di governo in un periodo che si dice sia di crisi. Non è che lo invento io, non è che lo dico io. Lo dice il mondo, lo dice la televisione, ma lo dicono i fatti stessi. Quindi aver fatto tutte queste opere in questi dieci anni vorrebbe dire che i soldi li abbiamo investiti in cose. No, non in persone. Poi qualcuno potrà piacere certe cose, altri no. Ricordo quando abbiamo fatto via Roma, all'inizio c'era quasi una rivolta popolare. 1100 firmi a Santo Stefano. Ora tutti contenti. Ora tutti contenti, perché la via è decisamente più bella, più funzionale. Si presenta decisamente meglio. Certo, il commercio non sta andando come ci piacerebbe. Anche se i ristoranti sono tutti pieni e sempre pieni. Anche in questi giorni d'inverno, quei pochi aperti, hanno lavorato. Alberghi ne abbiamo pochi, quindi vorremmo incrementare. A proposito, voglio ricordare che forse quest'anno finalmente partirà la risoluzione del problema della Cirio. Questo è un problema enorme. Anche questo è un qualcosa di importante che vorrei riuscire a... Parte anche il problema parcheggio che ha Santo Stefano. Speriamo che parte anche quello lì, Giardino Iacovaccio. Di cose da raccontare di questo mio mandato, ce ne sono tante, però io non vorrei raccontarla adesso. Vorrei aspettare alla fine del 2018. Noi vi seguiremo passo passo, ma la Marina che ne facciamo? L'ex Marina. L'ex Marina, cosa intendi lì a Porto Erdo? Che ne facciamo? Ma quella ancora c'è in dubbio di chi è la proprietà sull'ex scuola elementare. Quindi se c'è sempre un dibattito fra noi e il demanio, è nostro, è demaniale. Quindi per il momento la stiamo mantenendo noi, ci stiamo arroccati in difesa, per poi casomai partire all'attacco appena possiamo farci qualche cosa. Però diciamo di carne al fuoco in questo momento direi che ne abbiamo tanta. Aumentarla poi rischiamo di andare in overload, di non riuscire a cucinare il tutto. Quindi direi che di cose in pentola ce ne sono tante e queste basta, ne avanzano. Michele Lubrano, Assessore del Comune di Monte Argentare per l'Economia del Mare, Assessore per Porto Ercole. Un 2016 sicuramente da cancellare dall'annuaria di Michele Lubrano. Da cancellare per il mio infortunio, che purtroppo è capitato. Mentre per quanto riguarda sia lavori pubblici che le presenze avute nel territorio, quindi parliamo della frazione di Porto Ercole, sono state elevatissime. Quindi siamo contenti e felici dello sviluppo che abbiamo avuto. Quali sono le cose che ricordi più volentieri del 2016 al di là dell'infortunio? Ora non ha battuta la mia. No, no, al di là dell'infortunio ricordo benissimo il Melgest, questa tappa del campionato del mondo di barca a vela, che abbiamo avuto 250 presenze fisse per tre settimane. Possiamo parlare della notte di piratico, dei numeri impressionanti. E una serie di lavori pubblici che la popolazione aspettava, come la via Campagnatico, quindi la zona Peppe e la zona 167 di Porto Ercole, con due sviluppi sul territorio, quindi dei giardini nuovi, una viabilità nuova che mancava dall'82. E poi abbiamo chiuso il piano oratore del porto di Calagalera. Una cosa importantissima, perché parliamo di un'economia, di un indotto importante, non solo per gli operatori che lavorano nel settore, ma c'è tutti gli artigiani alle spalle che lavorano. Il 2017 si apre con una notizia che l'ex Cirio finalmente scomparirà. Sì, queste sono le notizie che arrivano. C'è questo magnate svedese che ormai ha acquistato la proprietà. L'atto è stato fatto il 18 di novembre, ma non è nostra, è un privato. Si sa quello che ci verrà fatto? Albergo, un albergo di lusso, lusso, proprio super lusso. Parliamo di circa 50-55 camere con spa, una piccola piscina, campi da tennis, quindi uno sviluppo importante per il territorio che mancano ormai da 40 anni, da quando è stato chiuso lo stabilimento Cirio. Quindi per noi vuol dire posti di lavoro, incrementare l'economia. Ecco, poi quest'anno c'è stato anche l'arrivo delle prime mini crociere. Che cosa ha significato per Porto Ercole? Sì, stiamo lavorando molto con queste navi da crociere, vedi gli sviluppi che abbiamo avuto negli ultimi mesi. Sono arrivate 11 scali, ma non è il target che vogliamo noi. Naturalmente si parte sempre a piccoli passi, fino ad arrivare poi a dei numeri più importanti. abbiamo fatto dei meeting importanti sia a Tenerife che a Madrid, ora ai primi di febbraio andiamo anche a Londra. Quindi stiamo lavorando, siamo entrati in questo circuito che si chiama la CLIA, dove stiamo progettando e portando avanti il nostro territorio. Attualmente abbiamo 11 scali, diciamo 17 in totale tra Porto Ercole e Porto Santo Stevano, ma è il nostro volere aumentare. Nel 2018 si dovrebbe arrivare intorno alle 50 navi. Sono numeri. Sono numeri. Sono numeri. Sicuramente il turista che arriva a terra inizia a conoscere il nostro territorio. Abbiamo fatto dei percorsi turistici importanti. e anche nei piccoli negozi gli artigiani riescono un po' a movimentare. Quelli che sono già scesi, cosa hanno detto, cosa hanno visto, cosa hanno apprezzato di più? Recensioni tutte positive. Hanno apprezzato molto l'accoglienza e i forti spagnoli, questa bellezza che abbiamo. Allora, 2017, al di là della notizia dell'ex Cirio, cosa bolle in pentola? Beh, io parlo sempre di Porto Ercole. Stiamo terminando i tre cantieri aperti che abbiamo anche sulle terrazze della via principale come lavori pubblici. Vogliamo fare un po' di, diciamo, di abbellire un po' il paese come ci piace a noi. Quindi cerchiamo di lavorare sulla pulizia, sulla sistemazione di alcuni marciapiedi che sono ancora, diciamo, un po' rotti. Pavimentare alcune zone. E la cosa più grande è l'ex asilo Ricasoli, questo stabilimento, questo palazzo, che noi andiamo a ricostruire, a risistemare e fare un progetto importantissimo per Caravaggio. Quindi facciamo un vero e proprio polo culturale. Quindi lì lo sviluppo. Sappiamo tutti come funziona adesso, perché il turismo culturale non è mai mancato in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni. Quindi cerchiamo di collegare navi da crociera, polo culturale. Alla fine la gente deve venire per forza, perché non è più soltanto la nautica, la barchetta, di fare il giretto a luglio-agosto. Cerchiamo di allungare la stagione nei periodi un pochettino più morti, tra virgolette. E quindi asilo Ricasoli per il 2017. Piccola sede dei Pirati ancora nel 2017, quindi ci sarà proprio un polo anche lì per i Pirati dove ci saranno i costumi vecchi, antichi e portiamo avanti questa notte dei Pirati che noi ci teniamo molto, come lavori pubblici. Come sport e cultura faremo sempre le nostre manifestazioni di luglio-agosto e in più abbiamo una tappa all'ultimo weekend di agosto di una tappa del Campionato del Mondo, ancora una volta del Melgest. Quindi sviluppiamo anche sia a terra che a mare. Quanti abitanti fa Porto Ercole? Siamo 2.600 all'incirca. Pochi ma buoni? Pochi ma buoni nel periodo invernale, ma nel periodo estivo arriviamo al numero di 11-12 mila. Bene, pensate quindi anche a un incremento turistico proprio per il 2017? Sì, devo dire che nel 2014 e dal 2014 al 2016 abbiamo avuto dai 9 mila alle 12 mila presenze all'ufficio turistico. quindi vuol dire che c'è stato un grosso movimento. Le seconde case sono tutte quante aperte, case in affitto non si trovavano niente di luglio niente di agosto, gli alberghi sono pieni e questo è il paese, più di questo non li possiamo portare. Quindi vedendo il target dal 2014 al 2016 che sono sempre andate a crescere, penso che anche il 2017 sia in crescita. Quindi di nuovo Pirati, di nuovo Paglio di Porto Ercole, di nuovo tutte le manifestazioni lungomare? Quelle sotto lungomare e qualche piazza, cerchiamo di dividere anche in qualche piazza, più dei concerti mirati che facciamo all'interno del Forte, delle Forte Rocca. Anselmo Sabatini, Presidente Proloco di Porto Ercole, siamo all'interno del mitico tendone di Porto Ercole, una delle cose più simpatiche e anche giuste per una popolazione come Porto Ercole. Sì, in effetti ormai questo è l'undicesimo anno che ripetiamo questa esperienza, lo facciamo con l'aiuto soprattutto dell'amministrazione comunale che ci aiuta soprattutto economicamente, ma con l'aiuto di molte persone del posto, sia facenti parte della Proloco e non che si adoperano perché vada avanti questo tipo di iniziativa, che poi è un'iniziativa per il sociale, perché quando è il pomeriggio portiamo qua 70-80 persone di una certa età che giocano a tombola o ai bambini che intanto... Un'attività un po' per tutti allora? Sì, è un'attività diciamo un po' per tutti e poi quando è la sera facciamo gli eventi con cene, feste da ballo, teatro, è un po' di tutto insomma. So che di solito per l'ultimo anno fate il pianone per esempio. Sì, quest'anno è stato un pianone così e così dovuto soprattutto all'influenza che gira diciamo e quindi comunque sono stati numeri buoni anche quest'anno e anche le serate fino adesso insomma la partecipazione è stata buona. Senti Ensemmo, quante persone tengono in pianista baracca? Diciamo così. Noi siamo circa 35 persone che per 20 giorni stiamo all'interno di questa struttura e curiamo un po' tutto, dalla pulizia, dalle scene, dagli spettacoli, tutto. Ecco, solitamente sono più giovani o anziani? Ma questo è una dolente nota perché purtroppo i giovani partecipano un po' poco a questo tipo di eventi insomma e invece noi vorremmo che si avvicinassero un po' di più anche perché per stare vicino un po' a tutte le altre persone insomma e comunque c'è una buona partecipazione ma ancora non moltissimi frequentano questi eventi insomma. 20 giorni di lavoro pieno qui? Eh, lavoro pieno e quest'anno abbiamo combattuto anche con l'influenza e quindi informazioni ridotte quest'anno è stata un pochino più dura e via. Ma chi ve lo fa fare? Eh, quello che a volte mi chiedo anch'io. Quello che a volte ci chiediamo anche noi chi ce lo fa fare. Vabbè, la passione, cercare di fare qualcosa per il sociale, per cercare di riunire il paese. È più la fatica o la soddisfazione? Beh, diciamo che la fatica è tanta però diciamo quando poi le cose vanno bene c'è anche la soddisfazione che poi è quella che ci ripaga, vede che la gente magari ti ringrazia, che sono contenti che insomma lo facciamo. E allora come tutte le aziende che si rispetta c'è un capo, Erasmo è il capo chef che controlla e non lavora o lavora e controlla? Che fa? Lavoro, 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 sì. No, c'è una bella squadra, veramente bella, lavorano tutti con entusiasmo. Chi è quello un po' più tignoso? È quello lì, quello che ha per la tuvola. C'è quello che rompe le piazza? È tremendo, è tremendo. Gli altri sono tutti più bravi, più buoni? Sono più calmi, sono più calmi, sì. La soddisfazione c'è oppure magari si poteva fare qualcosa di meglio e di più? Da parte nostra ci abbiamo messo come al solito tutto l'entusiasmo, anzi forse qualcosa in più. Non c'è stata la risposta dell'altro anno però tutto sommato poi alla fine va da tutto bene. La gente poi è venuta, specialmente negli ultimi periodi. Come ha detto Gino c'è stata una catombe con l'influenza fra noi e quelli che dovrebbero venire. Insomma, scontentiamo. E lei prepara i dolci? Che dolci? Di qualsiasi genere, da dolcini secchi a dolci freschi, zuppe inglesi, torte, quello che capita. Quest'anno che cosa è andato di più? Questi dolci qui vanno sempre, guardi, questo qui è il dolce che va più di tutti. Il dolce secco praticamente. Il dolce secco.